Il calendario degli eventi natalizi di quest'anno è stato illustrato da una celebre illustratrice ischitana, Monica Hernandez, molto brava, apprezzata anche in Giappone, con un'immagine di una tartaruga. Per alcuni, legati un po' a quella che è l'iconografia tradizionale del Natale, questa tartaruga ha lasciato un po' di perplessità. Parliamo con Salvatore Ronga, l'assessore alla cultura del Comune di Ischia, che ci spiega il significato della tartaruga e perché non deve spaventare. No, non spaventa. Diciamo che la maggior parte, alcuni sono rimasti molto perplessi all'idea della tartaruga non avendo ancora visto l'illustrazione di Monica Hernandez. Poi invece si sono tutti convinti che Monica Hernandez, da quella straordinaria artista che ha avuto un'intuizione che è quella geniale, il nostro cartellone si chiama Natalia Ischia, un mare di stelle, volendo sottolineare da una parte che siamo un'isola ed è bene ricordarcelo anche a Natale, volendo ricordare che questo mare di stelle è il cielo ma in realtà gli antichi quando dipingevano il cielo a partire dagli egizi lo dipingevano come specchio del mare. Quindi le stelle che disegniamo tutti, fin da bambini, quelle a cinque punte, in realtà sono delle stelle marine e mi pare che come isola possiamo essere anche un po' fieri di questa cosa. È una tartaruga, è un animale delle nostre acque, una tartaruga il cui guscio trasfigura il castello aragonese in una sorta di presepe, quindi diciamo che c'è anche la tradizione tanto cara a noi ischitani e nello stesso tempo è un animale portafortuna ed è legato naturalmente alla lentezza. Quest'idea di lentezza però non deve essere confusa con un'idea di pigrizia, la tartaruga è lenta ma va lontano, anche quella marina va lontanissimo, poi magari torna sempre a casa e anche la lentezza dove in questo mondo la velocità in qualche modo ci sta fagocitando, siamo tutti un po' vittima è anche un po' un invito a non correre almeno per il tempo di Natale, cioè ad assorbire ogni attimo, a godere ogni momento con la giusta riflessione, con la giusta meditazione e quindi anche un invito a godersi le vacanze di Natale. Quindi diciamo è un'iconografia che rispetta la nostra tradizione e nello stesso tempo la rinnova, cioè come la tartaruga, come isola, ecco dobbiamo portare sul nostro guscio la tradizione che non deve diventare un peso ma deve diventare una cosa bella come il presepe che illumina la notte e dobbiamo andare lontano, non possiamo restare fermi all'ancora come diceva Truman Capote negli anni 50.